Il cuore verde del centro storico, un luogo di eventi, di musica, ma anche di semplice relax che purtroppo manca da tempo ormai alla città pesarese. Ora quella location sta per rivivere. Sono infatti arrivati i fondi necessari per la rigenerazione dei giardini rizzortolani che dunque si preparano a vivere una nuova vita, ma sempre da protagonista in verde del centro cittadino. Un piccolo cuore verde all'interno del centro storico di Pesaro. I giardini rizzortolani sono quel collegamento tra il conservatorio e tra Polazzorici, tra l'altro due contenitori importanti proprio del centro storico della città su cui sono in corso due importanti interventi di rigenerazione urbana. In questi giorni è arrivato il finanziamento ITI da parte della regione Marche per investire sul recupero di quella parte sui giardini rizzortolani. L'idea è quella di andare a recuperare questo verde, quindi andare a recuperare anche quelle che sono le scienze originarie di quel luogo e al tempo stesso realizzare anche un piccolo spazio scoperto per piccoli concerti, piccoli eventi, un luogo che possa dialogare bene con quella che è la città della musica che abbiamo proprio l'intorno. Come dicevo, il conservatorio è lo stesso il campus della musica che avverrà con il recupero e la riqualificazione di Palazzorici. Si tratta di uno dei tre interventi finanziati con il bando ITI della regione Marche, i giardini di Rizzortolani, appunto, i giardini degli Ortiguli e infine anche che verranno recuperati anche quelli con un investimento di oltre un milione di euro e infine i locali dell'ex cinema di Via Venturini. L'idea è quella di recuperare quell'immobile per dargli una destinazione anche laboratoriale dedicata alla valorizzazione dei prodotti anche enogastronomici locali e quindi di far ripensare quel luogo anche valorizzando la cultura enogastronomica della nostra città.